Arrivano altri 15.000 euro dalla Fondazione Carispac e il concorso internazionale di canto lirico Maria Caniglia potrà essere calendarizzato per la primavera del 2019. L'annuncio è arrivato questa mattina in conferenza stampa dal vicepresidente della Fondazione Carispac Armando Senibaldi ed ai vertici dell'associazione Maria Caniglia, il presidente Vittorio Masci e il direttore artistico Chetano Di Bacco. Alla notizia della cancellazione del prestigioso concorso, la Fondazione Carispac, grazie all'impulso di Senibaldi, ha reagito con uno scatto d'orgoglio. Due giorni fa in un CDA della Fondazione è stato deliberato il contributo aggiuntivo di 15.000 euro che incrementa la somma già locata in bilancio dalla Fondazione Carispac. All'appello lanciato dall'associazione hanno risposto anche la Camera di Commercio dell'Aquila e la BCC di Prado La Peligna. La Fondazione, oltre a deliberare questo ulteriore contributo straordinario, si è mossa per sensibilizzare la Regione e per manifestare la propria insoddisfazione per il modo in cui il disinteresse dimostrato in questa fase dalla Regione è confronto di un concorso di grande prestigio. Al presidente Pampani è stato assicurato che si farà del tutto per recuperare in calcio d'angolo, come si suol dire. E quanto ha detto Sinibaldi, non senza nascondere che tutti gli eventi culturali che si svolgono a Sulmona hanno il sostegno della Fondazione. Sono arrivato dalla Fondazione del Consiglio di Amministrazione nel 2001. In quell'anno, a favore del territorio di Sulmona, erano stati deliberati interventi per circa 100 milioni, allora c'era la lira. Quest'anno, ad oggi, Sulmona e il territorio di Sulmona hanno potuto beneficiare di oltre 600 mila euro. Penso che non ci sia una sola manifestazione qui a Sulmona, partendo dalla Giostra Cavalleresca, al Mundain Jezza, al Sulmonacinama, Camerata Musicale, Ateneo Nazionale della Lì, non c'è una sola manifestazione che non riporti il sostegno della Fondazione Carisma. Intanto, domani si dirà il concerto di promozione del concorso Caniglia, che richiamerà quattro dei vincitori delle passate edizioni, giusto per non interrompere la ciclicità dell'evento, anche se l'edizione vera e propria, come hanno ufficializzato Masci e Di Bacco, ci sarà nella primavera del 2019.